essere, stato, bere, bevuto, chiedere, chiesto, conoscere, conosciuto, cuocere, cotto, muovere, mosso, nascere, nato, piacere, piaciuto, scrivere, scritto, stringere, stretto, vivere, vissuto, vincere, vinto, vedere, visto, accendere, acceso, dire, detto. In casa mia c'è ancora qualcuno. Questo fine settimana usciamo. Alcuni insetti vivono un giorno. Ho qualche vestito da regalare. Conosci qualcuno dei suoi amici? Ogni sabato vado in discoteca. Faccio un regalo a ognuno di voi. Alcune di loro sono belle. Qualche mese fa ho viaggiato. So alcune parole in italiano. C'è qualcuno che ti sta chiamando. Esco ogni volta che c'è il sole. Alcuni fiori perfumano molto. Ho qualche bibita in macchina. Non ho capito che stai facendo. Mi chiedo chi sia quell'uomo. Ho scoperto chi ti ha rubato i soldi. Il vestito che hai comprato è costoso. Parlo con chi vuole ascoltarmi. Dimenticavo che sei allergico. Hai detto quello che tutti pensano. Mi passi il piatto che sta sul tavolo? La pizza che ho mangiato era buona. Non ricordo chi ha telefonato ieri. chi lavora tanto viene premiato. I regali che mi hai fatto sono belli. il film che ho visto era interessante. Paolo mi ha detto che ti saluta. Lui è mio cugino che vive a Roma. Chi viene al mare con me? Questa è un'auto che va veloce. Le persone che ridono sono felici. chi ride è una persona felice. Il blu è il colore che preferisco. Chi lavora la notte guadagna di più. Claudia non capisce la lezione. Neanche io capisco la lezione. voi andate in vacanza domani. Anche noi ci andiamo domani. Lei gioca a calcio da molti anni. Anche tu ci giochi da molti anni. I miei cugini non aspettano mai. Neanche voi aspettate mai. io telefono spesso a mia sorella. Anche lui le telefona spesso. tu giochi molto spesso a calcio. Anche loro ci giocano molto. Lei non va mai a letto alle 10. Neanche tu ci vai mai alle 10. Loro non vogliono mai il gelato. Neanche noi lo vogliamo mai. Luca non è andato al lavoro oggi. Oggi non ci è andata neanche lei. Voi dovete spostare la macchina. Anche tu devi spostare la tua. Io vado al cinema ogni sabato. Anche io ci vado ogni sabato. I miei amici non escono stasera. Neanche noi usciamo stasera. Tu mi mandi molti messaggi. Anche tu me ne mandi molti. Voi andate in vacanza d'estate. Anche loro ci vanno d'estate. Domani dovete alzarvi presto. Anche io devo alzarmi presto. Non ci piacciono i piatti freddi. Non piacciono neanche a noi. Lei non può uscire di casa oggi. Neanche noi possiamo uscire. Io non so chi ha fatto questo. Neanche lui sa chi è stato. Voi avete già finito il lavoro. Anche loro lo hanno già finito. Luca non dice mai dove è stato. Neanche lei ce lo dice mai. Oggi nessuno è venuto a scuola. Non abbiamo niente da fare. Non è successo nulla di nuovo. Nessuna collega gioca a calcio. Non vedo nessun amico stasera. A casa non abbiamo nient'altro. Qui non è cambiato più nulla. Non ho ancora fatto niente. Non voglio chiamare nessuno. Nel mio zaino non ho nulla. Nessuna amica abita in città. Mio zio non sa niente di auto. Oggi in casa non c'è nessuno. Non ci vado nessun'altra volta. Ho messo la sveglia alle sette. Tira le tende. C'è troppa luce. Il tuo vestito è nell'armadio. Non ho la televisione in camera. Ti pettini davanti allo specchio. Ho messo le coperte sul letto. Questo cuscino è molto comodo. Ho molte penne sulla scrivania. Abbiamo tanti libri sugli scaffali. Ho una lampada blu sul comodino. Mi piacciono i letti grandi. Il mio pigiama è blu e grigio. Vincino al letto ho un tappeto. Dormo su un materasso doppio. Stasera andiamo in discoteca. I bambini vanno al ristorante. Luigi va in montagna a sciare. Oggi devo andare dal dottore. Vado in vacanza in autunno. Gli altri sono andati in città. Appena esco vado in banca. Sabato vado a un matrimonio. Domattina andiamo da Paolo. Andate al mercato più tardi? Sono appena andati al bar. Oggi vado a letto alle 10. Ad agosto andiamo in Italia. Vado a Lisbona in macchina. Il mio amico è italiano. Il mio è italiano. La mia amica è simpatica. La mia è simpatica. I miei amici sono italiani. I miei sono italiani. Le mie amiche sono italiane. Le mie sono italiane. Il tuo amico è italiano. Il tuo è italiano. La tua amica è simpatica. La tua è simpatica. I tuoi amici sono italiani. I tuoi sono italiani. I tuoi amici 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 sono italiani. I suoi sono italiani. Le sue amiche sono italiane. Le sue sono italiane. Il nostro amico è italiano. Il nostro è italiano. La nostra amica è simpatica. La nostra è simpatica. I nostri amici sono italiani. I nostri sono italiani. Le nostre amiche sono italiane. Le nostre sono italiane. Il vostro amico è italiano. Il vostro è italiano. La vostra amica è simpatica. La vostra è simpatica. I vostri amici sono italiani. I vostri sono italiani. Le vostre amiche sono italiane. Le vostre sono italiane. Il vostro amico è italiano. Il loro è italiano. La loro amica è simpatica. La loro è simpatica. I loro amici sono italiani. I loro sono italiani. Le loro amiche sono italiane. Le loro sono italiane. Le loro amiche sono italiane. Le loro amiche sono italiane. Io ho mandato un pacco in Francia. Lei ha lasciato aperto il cancello. Due camerieri hanno servito tutti i clienti. Lui ha finito di lavorare alle cinque. Noi abbiamo pigiato il pulsante un sacco di volte. Voi avete dovuto aspettare più a lungo. Che libro leggi? Cosa leggi? Che cosa fai? Chi è quella persona? Chi viene alla festa? Di chi è questa rivista? A chi hai dato la rivista? Maria, come stai? Come si chiama il tuo amico? Dove vivono i tuoi amici? Dove vai a scuola? Perché dici questo? Perché non vai alla festa? Quando vai in Italia? Quanta carne mangi? Perché? E io? Perché? Perché? Perché?